Non ti prego, dipende quanta voglia c'è, c'è quanta vista c'è, l'altro è lui l'altro, 105 scema. Mercoledì è il giorno più in cima della punta della montagna della settimana, da domani stiamo in... Oh mamma, mamma! Allora, lo faccio, lo faccio, lo faccio. Buon mercoledì a tutti, da lei lui l'altro. E buon mercoledì a Lodovic a Comello. Buon mercoledì a Dario Micolaus. Buon mercoledì a Edoardo Mecca. E buon mercoledì a DJ Spine in regia. Grazie. Scusate, non c'è un ombrellino? No, mi servirebbe un ombrellino. Anzi, sai cosa mi servirebbe? Cosa? Uno di quei cappellini con l'ombrellino. Sì, molto belli, si usano soprattutto in Giappone queste cose qui. Sì, per schermirsi dai raggi UV. C'è da dire che le luci in questo studio sono proprio fatte apposta per andare in tv, per essere ripresi, per girare dei video, perché hanno quella luce che... Per essere belli e senza una grinza. Sì, esatto. Non siamo così nella realtà. Tra l'altro chi ci guarda sul 66. I raggi UV danno un vino incredibile. Ciao ragazzi, oggi con questo tempo mi sono addormentato e mi sono svegliato adesso solo per seguire voi in tv. Firmato. Paolo, ma beato te Paolo! Effettivamente con questo clima raga viene solamente voglia di prendere il plaid e fare zapping violento proprio, ma violento, di quello che ti prende il crampo al pollice. Spine dà anche un altro suggerimento che però non è che si possa proprio dire. Esatto. Capito no? Radiofonicamente è così. È in tutto il mondo. Io non lo so fare però. Com'è? Ma oggi? Che giorno è? Che giorno è? È quel giorno lì. È quel giorno lì, ragazzi. È il giorno in cui ci si emoziona, in cui si piange, in cui si sorprende la propria persona amata. Si ricuciano rapporti. Si ricuciano rapporti, si chiede scusa. Tutto questo avverrà qui in diretta a lei, lui, l'altro con C'è posta per gli altri. E iniziamo subito con Justin Timberlake. No, Angels. Buonasera.